Nemmeno tu Ma caro, non sei anche tu un uomo superiore? Io? No! Questa cazzata ieri è durata venti minuti Senti, tua madre comincia a calarsi troppo nel ruolo di fuoco e inizia a rompere, va bene? Basta! È mezz'ora che mi torturi con le tue idiozze! Ma lasciami in pace! E chi è questa bionda che ti sei portata al ristorante? Che ho fesso? Maiali! Sì! Non ho capito che c'entra mia madre adesso! Eh, c'entra, senta! Io ho un po' la diffusione, un po' bambone! Mi stai soffocando? Eh, allora aspetta, eh! No, lui invece seguirà il senco magistrale di tua madre! E pianta, ma di leggere certi giornalecchi di aria progressista, pari! Puoi provocare! No, tu mi informi le due sede! No, no, nessuna imposizione! Ti accorgerà in maniera molto naturale! Ti ho ragione! Stavremo a vedere! Amore! Sant'Ambruso, ma perché l'ho mai fatto culatone, e poi c'è che l'ho mai fatto pure che il suo peso! Grazie.